Buongiorno, ben trovati. Lunedì 3 settembre 2018, nuovo appuntamento, il primo della settimana con la nostra consueta rassegna stampa che apriamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi oggi come ogni lunedì con l'avvio anche del campionato di Serie B. Daremo nella seconda parte poi grande spazio allo sport, andremo a vedere anche il servizio sulla partita Pescara-Livorno, la vittoria dei Biancazzurri, ascolteremo il tecnico pillone. Poi vedremo anche i servizi delle gare di Coppa Italia, giocate ieri dalle formazioni di Serie D. Andiamo per ordine, prima pagina del centro, edizione di Pescara, la cronaca in primo piano, vedete il titolo a tutta pagina. Pescara-Livorno, rapinati da cinque bulli dopo la Movida, Pescara, due ragazzi aggrediti sulla Riviera Nord e derubati di soldi e telefonini. Vi dicevo del Pescara, seconda giornata e prima vittoria dei Biancazzurri, occorrono alla Pescara due rigori trasformati da Andrea Cocco, che vedete nella foto, per superare l'ostico Livorno, Livorno che aveva fallito sullo 0-0 con Giannetti, un tiro dagli 11 metri. Vediamo le cronache di taglio, Pescara-Scuole congelati fondi per i lavori antisismici, poi il raduno dell'Associazione Nazionale Alpini d'Abruzzo, 2.000 alpini sfilano nel centro di Penne, poi la tragedia di Ovindoli, muore Max Bortolotti, imprenditore della neve. Vediamo anche in alto un titolo che riguarda i ponti abruzzesi, vedete questo titolo nella parte alta che abbiamo cerchiato in verde, ponti abruzzesi poco sicuri, il centro svela all'elenco l'indagine del quotidiano sullo stato dei ponti della nostra regione. Siamo alla prima pagina del centro, edizione di Chieti-Lanciano-Vasto, Chieti 5 sottopassi a rischio, il cemento cade a pezzi, pericoli in via Vomano, via Penne e a Colle dell'Ara. E poi il calcio perché ha preso il via il campionato regionale di eccellenza, primo messaggio al campionato delle Chieti che batte il Martinsicuro per 5-0. Vediamo le cronache, Ortona, la rete del gas arriva anche nelle contrade, Lanciano, Schianto, Trauto, due feriti gravi e poi ritroviamo la notizia di Ovindoli con la scomparsa prematura di Max Bortolotti. Vediamo anche la prima pagina di Teramo del centro, il maltempo in primo piano che ha colpito ieri buona parte della nostra regione, soprattutto il versante orientale. La costa e la grandina danneggia, auto e tette a Silvio e Pineto cadono chicchi grandi come un pugno, un uomo rimasto leggermente ferito. Coppa Italia di Serie D, vi dicevo, poi vedremo i servizi delle gare di ieri, colpo del Giulianova a Francavilla, vittoria dei ragazzi di Stallone ai calci di rigore. Vediamo anche le cronache, il crack, Curti Di Pietro arriva in Cassazione, la bancarotta da 20 milioni, Roseto, gara per le strisce blu, il 7, si aprono le buste. E poi vedete anche in basso un titolo che riguarda il calcio di Serie A, perché come vi dicevo parleremo in maniera ampia e diffusa nella seconda parte di Mattino 6 di Sport. Ieri si sono giocate anche le gare, alcune gare del campionato di Serie A e un po' a sorpresa, anzi sicuramente a sorpresa anche per le proporzioni del risultato. C'è stata la vittoria della Sampdoria con il Napoli per 3 a 0 e la Juventus è già in fuga. Invece a proposito di sport delude la Ferro Rari con Hamilton che trionfa a Monza e per la Rossa a questo punto il Mondiale si allontana forse definitivamente. Ritroviamo sulla prima pagina del centro l'Aquila Avezzano sul Mona la notizia drammatica della scomparsa di Max Bortolotti, il direttore della Montemagnola Impianti di 51 anni, trovato senza vita dalla figlia. Vedete poi a centro pagina la foto che riguarda la Coppa Italia, in questo caso l'altra sfida, quella di ieri tra Vastese e Avezzano, c'è stata la vittoria della Vastese che dunque approda il turno successivo. Vediamo le altre notizie, appalto Palazzo Centi, le giudice Archivia scagionati da Alfonso e altri 12 e poi madre perde la vita nell'auto ribaltata, schianto sulla 25 l'autostrada Pescara Roma e poi sul Mona, sicurezza dei ponti, chiesti 15 milioni di euro. Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero, vedete il titolo in apertura Bartolotti, montagne e lutto, stroncato da un malore nella notte il proprietario degli impianti scistici di Ovindoli. E poi vedete in basso sotto la cronaca Pescara, cerchiati e rapinati sulla riviera, le vittime sono due ragazzi di cui uno minorenne. In basso, altra notizia che riguarda soprattutto il Terramano, vedete il titolo cerchiato in arancione, diluvio e grandine lungo la costa, soprattutto nel Terramano. E poi incidente in autostrada, muore romana di 54 anni. Vedete poi l'articolo di spalla, Toninelli, il ministro delle infrastrutture, siamo pronti a intervenire su A24 e A25. Il ministro annuncia la formazione di una squadra di tecnici per effettuare verifiche a tappeto. E poi in alto si parla di sport, Pescara ha un successo nel segno di Cocco, sulla doppietta che piega il Livorno, ma quanta sofferenza. E poi eccellenza, chiede subito Cinquina, festa in casa, 5-0 a Martinsicuro, Serie D, Real Giulianova e Vastese avanzano in Coppa Italia. Vediamo anche le altre notizie, i colleghi poliziotti a Rigopiano, dove la valanga, ucciso Dino, il ricordo dei colleghi per il poliziotto scomparso. E poi festa del mare, il maltempo di mezza, la regata dei confaloni a Pescara e poi all'Aquila, a tutta musica, l'Aquila conquistata dalla maratona jazz. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, andiamo a vedere l'edicola nazionale, ripartiamo dal Corriere della Sera, si parla di politica in primo piano. Tria, il Ministro dell'Economia, cerca la sponda del Premier Conte. Di Maio, reddito di cittadinanza entro il 2019. Salvini, sfioreremo il 3%. Vediamo anche in basso questo articolo del lunedì di Alessandro D'Avenia, non crollano solo i ponti, si parla dell'inizio dell'anno scolastico e delle problematiche che riguardano alcuni edifici scolastici. Abbiamo visto anche prima dal centro la Repubblica, appalti pubblici esclusi a vita i condannati per corruzione. Andiamo a centropagina, ci spostiamo in Libia, Tripoli, Serrai dichiara lo stato di emergenza. Nel paese confinante, al di là del Mediterraneo, anche un po' con l'Italia, dalla Libia partono molti dei disperati che poi cercano di raggiungere, rischiando anche la vita, le coste del nostro paese. Lo Sport, Formula 1, Ferrari sconfitta, la Mercedes di Hamilton si prende, Monza è a questo punto, il trionfo di Hamilton è più vicino, la Ferrari più lontana invece dalla conquista del Mondiale. Vediamo anche sul messaggero nazionale, Libia nel caos, stadio di emergenza, la milizia ribelle in marcia verso la sede del governo sostenuto dalle Nazioni Unite, violenti scontri, il Premier Serrai vogliono far saltare tutto, soldati italiani al sicuro. Sicuro, situazione davvero complicata in Libia, come vi dicevo, proprio perché dalla Libia partono molti migranti che cercano di raggiungere l'Europa. Vediamo anche altri titoli dalla prima pagina nazionale del messaggero, Salvini nel Def sfioreremo il 3%, il nome della Lega non si tocca, Tria insiste sul contenimento del deficit ma dovrà trovare almeno 10-12 miliardi. Un titolo che riguarda lo sport, in questo caso sul quotidiano romano si parla della Lazio, Luisa Alberto regala la prima vittoria a Inzaghi, sofferto soprattutto nel finale successo della Lazio con il Frosinone in questo inedito derby giocato all'Olimpico. Siamo al Fatto Quotidiano, la festa del fatto, presente il Vice Premier Di Maio, reddito a 5 milioni di poveri e sempre no tap, queste le dichiarazioni più importanti del capo politico, a questo punto senza ombra di dubbio del Movimento 5 Stelle. Vediamo anche qualche altro titolo che riguarda in questo caso le scuole, l'asilo nido e un miraggio, restano a casa, 8 bimbi su 10, questa è una problematica che riguarda diverse regioni. Vediamo anche Libero, quotidiano vicino al centro-destra, così assolvo la Lega, parla l'Avvocato e Ministro Giulia Bongiorno, l'incriminazione di Salvini è stata suggerita da una corrente della magistratura, sono basita, dice il Ministro Bongiorno. Vediamo poi a centro-pagine, il turismo va male perché noi italiani siamo dei cretini, parla Briatore in questa intervista rilasciata al Quotidiano Libero. E poi il mattino di Napoli, torna l'incubo Libia, ribelle all'assalto di Tripoli, poi vedete manovra, la sfida di Lega e di Movimento 5 Stelle al rigore di Tria. E poi il disastro del Napoli, siamo al calcio, ieri al Ferraris di Genova con la Samp, Napoli che disastro, tre schiaffi dalla Samp e allarme difesa, scrive il quotidiano napoletano. Vediamo quest'altra pagina del prossimo giornale che è il sole 24 ore, si parla di tematiche economiche, non potrebbe essere diversamente, conti migliori per le società anche sulla scia dei bonus fiscali. Questo è il titolo di apertura, ma c'è un titolo ancora più importante in basso che riguarda l'edilizia scolastica, scuola subito 3 miliardi per i lavori. Andiamo avanti, vediamo anche la stampa di Torino, in Libia parte l'assalto a Serra e l'Italia pronti ad intervenire. Questo è il titolo di apertura del quotidiano torinese e poi più al centro pagina si parla di politica, Salvini nuova sfida al Movimento 5 Stelle, subito la legittima difesa. Vediamo anche il tempo, altro quotidiano romano, prima avevamo visto il messaggero, Profondo Rosso Sanità, ecco i conti. Nel Lazio un deficit da oltre 436 milioni di euro. Vediamo anche il prossimo quotidiano che è la verità, la casa di lusso con i soldi dell'Unicef, le carte inguaiano i parenti di Renzi. Questo è il titolo in alto e poi ancora polemiche nel Vaticano. Il Papa ha coperto anche un altro monsignore che è il vaticanista dell'Espresso su questa notizia, questo titolo del quotidiano. La verità, vediamo anche il secolo d'Italia, basta l'arma e spread, scrive il quotidiano della destra. In basso altri titoli, 8 per mille per i migranti, polemiche sulla Caritas, poi nuova stretta del Viminale, sicurezza si fa sul serio e poi le grilline tendenza fico, migranti si svaghino. Questo è il titolo del secolo d'Italia. Dal secolo d'Italia al secolo XIX, il quotidiano di Genova, una corsia di sorpasso per accelerare i lavori del nuovo ponte di Genova. Si parla ovviamente della tragedia di Genova e Toti, il presidente della regione, chiede di anticipare di almeno un anno anche il terzo valico. E poi Libia e guerra civile, i ribelli verso Tripoli, al Serrai sotto assedio. Questo era l'ultimo quotidiano, il secolo XIX, l'ultimo quotidiano dell'edicola nazionale che abbiamo preso in esame. Torniamo ai giornali abruzzesi, ripartiamo dal quotidiano Il Centro, i controlli non fatti, ponti, ecco le 33 verifiche rimaste nel cassetto, la regione rivela, la maglia nera va alla provincia di Chieti. Vedete nella foto il ponte sul fiume Sangro, a fianco il documento che non è molto leggibile, riguarda i ponti della provincia di Chieti. In basso siamo a Teramo, riunione di urgenza per non perdere i fondi, la lettera shock che richiede i 6 milioni per il ponte non fatto da una scossa alla provincia di Teramo. E poi vedete la seconda pagina che riguarda il controllo sui ponti, da Garrufo ad Abbateggio, tutti gli indici di sicurezza nel Teramano, l'infrastruttura meno sicura, la più antisismica. Nel Pescarese le carte della regione su 30 opere monitorate, un quarto non ha problemi. Vedete l'elenco poi in questo grafico dei vari ponti. In basso si parla di servizio civile perché ci sono 46 posti di lavoro disponibili, bando delle Proloco d'Abruzzo con tutte le sedi che hanno richiesto, giovani sedi delle Proloco che si trovano nelle varie province della nostra regione. Lasciamo le cronache nazionali che abbiamo già visto dalle prime pagine dei quotidiani. Oggi ne dicola, ricominciamo e partiamo con le cronache dalle nostre province. Siamo a Pescara, la cronaca in questo caso in primo piano. Amici rapinati dal branco sulla rivera, vedete il titolo di apertura, aggressione dopo la movida, brutta avventura per due ragazzi, minacciati da cinque giovani che li hanno derubati di soldi, telefonini ed una carta post pay. E poi in basso, polizia di Stato in lutto a Pescara, addio al vicequestore Grimani, i funerali del primo dirigente questa mattina nella chiesa Gesù Risorto di Pescara. E poi la cronaca, Santa Teresa di Spoltore, pensionato, ferito in un incidente stradale. Siamo alla seconda pagina della cronaca di Pescara dal quotidiano Il Centro. Si parla di lavori antisismici nelle scuole. Il governo sblocchi fondi, corsa contro il tempo per completare gli interventi prima del ritorno in classe. Cuzzi, l'assessore del comune di Pescara, gli istituti segnalati da Foschi al prefetto, non presentano alcun rischio. Nei giorni scorsi l'esponente della Lega Foschi aveva segnalato degli istituti al prefetto che presenterebbero delle problematiche. Ieri è arrivata la risposta dell'assessore Giacomo Cuzzi, che ha detto che questi edifici non presentano alcun rischio. E' il maltempo ieri che ha colpito soprattutto il Terramano, la costa tra Silvi e Pineto, ma non ha risparmiato Pescara. Bomba d'acqua nel pomeriggio nel capoluogo adriatico. Via Paolini trasformata in una piscina. Allagati negozi, auto in difficoltà a Santa Teresa. Un fulmine su un albero trancia i cavi della luce. Un acquazzone violento, una bomba d'acqua durata pochi minuti, ma che ha creato problemi in diverse zone del litorale. Siamo alla regata dei Confaloni, che è stata anche contraddistinta da qualche problema per il maltempo. Vasto e Molfetta dominano la gara. Vediamo poi in basso, spoltore obiettivo Coppa Disciplina, presentazione in comune per la squadra che quest'anno parteciperà al campionato regionale di eccellenza. Vediamo poi in basso il 94 al raduno della famiglia di Giosaffatte a Picciano. Si sono ritrovati tutti i parenti di questa dinastia di Giosaffatte, proprio a Picciano, paese di origine. Siamo alla pagina che riguarda l'area metropolitana di Pescara. In questo caso a Montesilvano, alloggi popolari, via Salieri, resta ancora un appalto. Silvi, Bici, Montesilvano esporta il servizio di punzonatura. E poi a spoltore, tanti fedeli per la Madonna del Popolo, dopo il corteo e la rievocazione del miracolo, la messa ufficiata dal Vescovo della Diocesi di Pescara Penne, Monsignor Valentinetti. 16 settembre, Sagra dell'Uva, a Città Sant'Angelo. In basso, la solidarietà con le sculture di cioccolato per la Lilt, successo dell'evento di beneficenza organizzato dagli amici del Cenacolo Michettiano. Andiamo a vedere un'altra pagina, sempre la provincia di Pescara, in questo caso con l'area vestile della Val Pescara. Partiamo da Penne per la grande festa, per la sfilata dei 2000 alpini. La città ha ospitato per la prima volta il raduno dell'Associazione Nazionale Alpini d'Abruzzo. Il sindaco Semproni, una partecipazione senza precedenti. Vedete anche dalle foto, dalle immagini, quante persone hanno partecipato a questa sfilata con i 2000 alpini. A Città Sant'Angelo, area pedonale, orario estivo fino al 20 settembre. In basso andiamo a Manopello, posteggi al Volto Santo, bando fantasma. E poi più in basso ci spostiamo in Val Pescara, San Valentino in Abruzzo Citeriore. Si illumina il centro in provincia di Pescara con la prima notte bianca l'8 settembre, che sarà anche la data che aprirà le feste patronali a San Valentino. Andiamo alla pagina di Chieti del centro. Torniamo a parlare di ponti, di sottopassi, perché 5 sono i sottopassi a rischio, come leggiamo da questo titolo, il cemento cade a pezzi. Ecco le opere lasciate senza manutenzione. Adesso servirebbero oltre 2 milioni ai viadotti pericolosi. Si aggiungono via Vomano, via Penne e Colle dell'Ara. Ne aveva parlato anche due giorni fa ai nostri microfoni il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio. E a Chieti tutti i pazzi per la città antica. L'effetto ritrovamenti in piazza San Giustino gremite anche le terme romane. Siamo alla pagina della provincia di Chieti. Partiamo da Ortona. La rete del gas arriva a Contradaforo. Il comune del via Libera. L'intervento. Tra un anno la conduttura dovrebbe essere pronta. Il sindaco Leo Castiglione. Vogliamo aumentare i servizi. Poi toccherà a Ghiomera e Riccio. Torniamo a Chieti. Controlli dei vigili e denunce. Stop all'asilo pubblico privato. E poi in basso andiamo nell'area Frentana. Lanciano, Schianto. In via Pertreglio due feriti. Casalbordino e Ladi si fingono tecnici per rubare. Raffica di segnalazioni. E poi parliamo di cinghiali in basso perché 40 sindaci incontrano la regione a tessa vertice con l'assessore alle politiche agricole della regione Abruzzo, Dino Pepe, per chiedere nuovi interventi necessari ad abbattere gli animali. Proseguiamo con un'altra pagina che ci porta all'Aquila. L'inchiesta di Palazzo Centi. Appalto Palazzo Centi. L'indagine si sgonfia. Inchiesta in archivio. Il GIP scagiona definitivamente. D'Alfonso Ruffini e altri 12. Mancano elementi per sostenere l'accusa in un processo. Andiamo a centro pagina. Jets e pioggia tra strade e antichi palazzi. L'Aquila successo della maratona musicale disturbata dal maltempo. E poi la cronaca con un altro incidente mortale nella nostra regione. Madre perde la vita nell'auto che si ribalta. Schianto in A25 all'altezza di Collarmele. Ferito il marito e due figli. Uno è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Tragedia dovendo. Indoli muore nel sonno Massimiliano Bortolotti, il direttore della Montemagnola Impianti. Aveva 51 anni, trovato senza vita dalla figlia. Le reazioni unanime. Il cordoglio, una perdita immensa. Vedete le foto di Massimiliano Bortolotti anche in un incontro recente con il pontefice. In basso c'è il ricordo del sindaco dell'Aquila Biondi. Amava la nostra splendida terra, il cordoglio del primo cittadino dell'Aquila. La senatrice Pezzopane era un imprenditore coraggioso e innovatore. Questo è il ricordo del sindaco dell'Aquila e della senatrice aquilana. Siamo alla pagina di Teramo, sempre dalle colonne del centro. Il caso giudiziario, il crack Curti Di Pietro, arriva in Cassazione. Odienza fissata ad ottobre dopo il ricorso dei due imprenditori teramani condannati a sei anni per bancarotta. Vediamo. E poi in basso, Bromuro nell'acqua dello splendore. Giulianova nuove analisi sull'inquinamento della fonte Benedetta sotto accusa il vecchio ospedale. Proseguiamo con la pagina del litorale teramano, maltempo a Silvio e Pineto. Grandinata danneggia macchine e case. Decine di automobilisti si rifugiano sotto gallerie e viadotti. Chicchi grandi come un pugno feriscono anche un uomo. E poi Giulianova, l'ufficio marittimo, dichiara chiusa la stagione balneare con la giornata di ieri a Roseto. Strisce blu, il 7, si aprono le buste, a metà mese si saprà chi si è aggiudicato la gestione fino al 2020. Tornando a Giulianova, vedete questo titolo in basso, si rompe condotta per irrigare, allagata e chiusa, via Cupa. Lasciamo questa pagina, siamo arrivati alle pagine dello sport, ma dobbiamo andare a vedere insieme le pagine interne dell'inserto Abruzzo del messaggero. Ripartiamo da Pescara con la notizia di cronaca. Ragazzini aggrediti e rapinati da una baby gang sulla riviera, notte di paura per un 17enne e un suo amico. Sono stati rapinati di portafogli, carta post-pay e cellulari, le indagini della polizia. E poi i confaloni vasto si prende il trofeo alla regata di ieri a Pescara. La sfida tra le marinerie, poi effetto maltempo, cede ancora l'asfalto in via Monte Faiuto a Pescara. E poi in basso siamo a Penne. Gli applausi della città vestina salutano 2.000 alpini. Ieri la sfilata conclusiva in centro. Siamo all'Aquila. Il maltempo non spegne la forza del grande jazz. Migliaia di persone nel centro storico per la maratona, che sarà ormai stabile. La pioggia pomeridiana ha causato disagi, ma tutto il programma è stato rispettato. L'estate sta finendo, lo dicono proprio le condizioni meteo delle ultime ore. Addio, bella stagione. Sul Gran Sasso, anticipo di inverno. Con la grandine, come mostra questa foto. Lavori alla Campomizi per i giudici. Ci fu truffa. Questo è il titolo che riguarda ancora l'Aquila. In basso vediamo altre due notizie. Rapporti tra Bruzzo e Lazio. Incontro PD con Zingaretti. E poi l'intervento con la SD Città di L'Aquila. Rifiuti. La prima categoria c'è l'intervento, in questo caso, di Enrico Cavalli. De Cano dei giornalisti. Con Dante Capaldi, altro storico giornalista aquilano. Con questo intervento che riguarda il futuro della squadra dell'Aquila. Con la richiesta di rifiutare la prima categoria. Potrebbe essere, dovrebbe essere questa al momento. La categoria da cui dovrebbe ripartire la società Rosso Blu. Siamo alla pagina di Avezzano Sulmona. Bortolotti Junior, stroncato da un infarto. 51 anni, general manager delle DMC. Assieme al padre Giancarlo, aveva creato la magnola. Impianti di Ovindoli, cordoglio unanime. Non solo nella Marsica, ma in tutto l'Aquilano. Vedete poi le dichiarazioni del sindaco dell'Aquila. Che abbiamo visto anche dal centro. La comunità ovindolese in lutto. A Pescasseroli, strada senza nulla osta, interviene l'ente Parco. Vediamo poi in basso altri articoli. Partiamo da Avezzano, auto contro Paracaro, muore donna sulla 25. Poi ad Avezzano, articolo 1, casale annuncia, summit con Dattorre. E poi a Sulmona, interventi infrastrutture. Servono 15 milioni di euro. In basso, ci spostiamo proprio nella parte bassa della pagina. Ancora Sulmona, sit in nosnam, tutelare la salute dei cittadini. Questa è la richiesta degli ambientalisti. Siamo la pagina di Chieti, del messaggero, un angelo in terra, Fiori Perdino morto a Rigopiano. L'omaggio dei colleghi di Osimo e Ancona a Di Michelangelo, il poliziotto perito con la moglie Marina, nella tragedia dell'hotel del resort Rigopiano. A Lanciano, il mastro giurato più forte della pioggia. Giuramento e corteo con bagno di folla. Leggiamo anche questo risvolto. 10.000 spettatori hanno assistito al rito tradizionale. Il professor Chips, autorevole e rigoroso nel ruolo principale. In basso, due notizie. La prima che arriva ancora da Lanciano. Il sorpasso del frontale grave. Uno dei due feriti. Casal Bordino si cerca l'immigrato eroe che ha salvato il bambino. Bambino che ha rischiato di annegare sabato scorso. E' stato salvato e poi trasferito all'ospedale di Pescara in elisoccorso. Siamo alla pagina di Teramo. Del messaggero. Teramani in crisi. Allarme per le prestazioni sanitarie. I dentisti registrano un calo di visite. Tanti si rivolgono alle strutture Caritas. Il vescovo Leuzzi. Dobbiamo pensare a rafforzare, dice il prelato, le strutture domiciliari. Da Teramo ci spostiamo a Giulianova. Chalet rosso di sera. Stop con un decreto. E poi andiamo in basso. Santomero. La casa di riposo Campanini non chiude. Questa è la notizia che arriva da Santomero. Poi vediamo ancora in basso. Di nuovo Giulianova. Pari opportunità. Una serie di importanti iniziative in cantiere. Poi il maltempo. Con la grandine su Silvi, Roseto e Eppinetto. danni a molte auto ieri nel pomeriggio per questa improvvisa e violenta grandinata. Siamo arrivati anche in questo caso alle pagine dello Sport dal Messaggero. Ma noi ci fermiamo per qualche attimo. Poi torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. E come sempre, come ogni lunedì, apriremo l'ampia pagina di Sport. Eccoci di nuovo in studio. Seconda parte di Mattino 6 di lunedì 3 settembre 2018. Ampia pagina sportiva in questa seconda parte. Quasi mezz'ora per parlare di sport a tutto tondo. Di calcio, anche di automobilismo, di palacanestro e tanto altro. Partiamo con le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Gazzetta dello Sport. Non c'è l'anti-Juve. Lo dicono le prime tre giornate di campionato. Nessuno al passo di Allegri. Cade anche Ancelotti. Abbattuto dalla Samp. Samp, Sampdoria, che ha superato il Napoli per 3-0. E poi autogol Ferrari in alto. Vedete il Gran Premio di Monza ieri con la rossa che sbaglia tutto. Hamilton trionfa. Vettel sorpasso da Chimi. Vediamo poi a centropagina. Quaglia che capolavoro. Il gol di tacco di Quagliarella ieri nel gol del 3-0 di Sampdoria Napoli. Da solo ha avuto il valore del biglietto pagato dai 25.000 dello stadio Luigi Ferraris. Davvero una prodezza incredibile quella di Quagliarella che a dispetto dell'età continua a fare la differenza. Vedete poi di spalla il titolo in giallo, il ninja e il pipita. Si parla di Inter e Milan. Via alla riscosta delle due formazioni milanesi. E a proposito di Serie A possiamo dare uno sguardo grazie a questo specchietto della Gazzetta dello Sport. A tutti i risultati della giornata di ieri e alla classifica di Serie A. Terza giornata. Venerdì l'anticipo Milan-Roma 2-1. Sabato le altre due gare. Bologna-Inter 0-3. Parma-Juventus 1-2. Ieri le altre partite. Fiorentina-Udinese 1-0. Atalanta-Cagliari 0-1. Chievo-Empoli 0-0. Lazio-Frosinone 1-0. Sampdoria-Napoli 3-0. Sagra del gol a Reggio Emilia con Sassuolo che ha battuto il Genoa per 5-3. Torino-Spall 1-0. La classifica Juventus 9 al secondo posto a sorpresa il Sassuolo con 7 punti. Poi Fiorentina-Spall-Napoli 6. Atalanta-Inter-Empoli-Roma-Torino-Udinese-Cagliari 4. Sampdoria-Milan-Genoa-Lazio 3. Parma-Bologna-Frosinone-Chievo 1. Ricordiamo che Fiorentina-Sandoria-Milan e Genova hanno una gara da recuperare. Vediamo anche il Corriere dello Sport. Squagliarella, il tacco magico di Fabio scioglie le speranze di rimonta del Napoli. Davvero una prudezza incredibile. In alto la Lazio si spreca. Si fa per dire il titolo un po' rionico del Corriere. Vittoria sofferta 1-0 con il Frosinone. E poi Ferraris che Bottas si gioca sul nome dell'altro pilota della Mercedes. Hamilton è super e stravince con l'aiuto del compagno. Tutto sport. L'Euro-Toro è decollato 1-0 alla spalla. In alto Samp-Quaglia-Show. Napoli che crollo. Davvero inatteso il crollo del Napoli a Marassi con la Sampdoria del tecnico abruzzese. Marco Giampaolo. Prima pagina di sport del centro. Pescara carattere e sofferenza. Questo è il titolo di apertura successo nel debutto casalingo. Decisiva la doppietta di Cocco sul rigore contro il Livorno. Vedete poi la pagina che riguarda la Serie A. Juve già sola in vetta. Quagliarella che è gol. Napoli strapazzato. In basso Cagliari acuto di Barella per affondare l'Atalanta. Chievo ed Empoli si accontentano del pari 0-0 al Bentegodi. E poi l'Inter si gode in angolane. Aspetta il ritorno di Icardi. Vedete poi in basso Lazio-Frosinone 1-0. Basta un guizzo di Luis Alberto. E poi le altre due partite. Nella parte bassa della pagina. Sassolo da spettacolo e fa la manita al Genoa 5-3. Il Torino supera la SPAL. Zaza al debutto. Granata 1-0 per il Torino. Campioni d'Italia a punteggio pieno. Si parla della Juventus. La Juventus manca solo il gol di Ronaldo a secco dopo tre giornate. Va bene la Fiorentina. Cuore e lucidità. La Fiorentina vola. Pioli e loggia chiesa. E in crescita. Tra l'altro la Fiorentina è una delle quattro squadre che deve recuperare una gara. E virtualmente potrebbe essere in testa con la Juve. con nove punti. Vettel sbaglia. Hamilton, re d'Italia. Siamo al Gran Premio di Automobilismo. Errore del tedesco della Ferrari al primo giro per resistere ad un sorpasso. E gara regalata alla Mercedes. Mondiale più lontano. Perché i punti di differenza sono diventati 30. Luis Hamilton 256. Vettel 226. Poi il Recoeren staccato a 164. Sfilata di VIP a bordo pista. Ci sono anche Cacà e Aguero. Il presidente del CAR si presenta con la camicia rossa. L'inno nazionale cantato da Albano. Buona la prima casalinga del Pescara. Siamo al calcio di Serie B. Biancazzurri si fanno preferire sul piano della manovra. Ma lì davanti incidono poco. Nel finale palo del Livorno. Il salvataggio di Campagnaro davvero provvidenziale. Il salvataggio di Campagnaro al 93esimo. Vedete il tabellino della partita. Pilon felice. Sì, ma quanta sofferenza. Bisogna imparare a gestire la gara. Luccarelli e Sordio Amaro meritavamo di più. Ma il Pescara non ha rubato nulla. Le pagelle del centro. Campagnaro una roccia. Balzano incerto. Questi, diciamo, i principali argomenti delle pagelle del centro. Allora andiamo a vedere insieme i voti. Castrati 6, Balzano 5,5. Gravione 6,5. Campagnaro 7, Del Grosso 6,5. Melegoni 6, Brugman 6,5. Memusciai 6,5. Mancuso 5,5. Cocco 6,5. Antonucci 6, Capone 6. Dal ventottesimo del secondo tempo. Fiori per Morosini. La nord vicina a Genoa. Applausi per il centrocampista del Livorno. morto all'Adriatico nel 2012. In tribuna anche il noto dirigente ex Milan Braida che vedete nella foto, foto che non è proprio del tutto nitida, seduto a fianco al presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Vediamo anche i risultati delle altre partite di ieri in Serie B, questo campionato spezzatino con la netta vittoria del Crotone sul Foggia per 4-1. Il 2-0 del Perugia con l'Ascoli, doppietta di Vido. E il pirotecnico pareggio per 2-2 tra Lecce e Salernitana. Vediamo anche il messaggero come commenta la vittoria del Pescara. Pescara-Cocco mattatore, sua la doppietta con cui il Delfino piega il Livorno. Cocco non ha rivincite, ora sto bene, ride il Patrone Sebastiani e poi Pilonne benvengano i punti, poi arriveranno anche i gol. E noi lasciamo a questo punto parlare le immagini, possiamo andare a vedere il servizio su questa vittoria del Pescara con il Livorno per 2-1. Un doppio Cocco per un successo di rigore per la prima gioia della stagione del Pescara che supera per 2-1 il Livorno grazie ad una doppietta del Bomber di origine sarda dagli 11 metri. Successo meritato ma allo stesso tempo sofferto in un match dalle mille emozioni con i Biancazzurri dopo il 2-0 prima e il 2-1 dopo. Non sono riusciti nel colpo del K.O. La vittoria però alla fine è arrivata e questo è quello che conta. Pescara-Livorno riporta alla mente di tutti gli sportivi la tragica scomparsa. del centrocampista Pirmario Morosini. Contro i Toscani Pillon ripropone per 6 undicesimi la squadra scesa in campo a Cremona con le varianti di Mancuso per lo squalificato Marras, del grosso Lesorio in difesa al posto di Ciofani, del nazionale Under-19 Melegoni per Macin, reduce da un violento attacco influenzale. Ma soprattutto con l'impiego al centro della difesa di Ugo Campagnaro per Perrotta. All'ultimo istante contrattempo per Fiorillo con Castrati che va a difesa dei pali della porta. Bianca-Azzurra fra i Toscani e i Lucarelli senza diversi titolari. Deve fare di necessità virtù in difesa con Dainelli in campo anche se non al meglio. All'appello mancano in diversi in attacco spazio alla coppia. Giannetti-Cozac con Diamanti inizialmente in panchina. Toscani in campo con il modulo 3-5-2. Pescara-Rivorno si gioca di fronte a 7.000 spettatori sotto la direzione di Maggioni di Lecco. Avvio di partita su un campo inzuppato dalla pioggia e con i Bianca-Azzurri subito in proiezione offensiva. Il Delfino spinge ma la formazione labronica ribatte colpo su colpo. Al diciassettesimo, ghiottissima occasione per il Pescara con Antonucci che con una grande giocata mette Melegoni davanti a Mazzoni che salva quasi alla disperata con i piedi. Alla mezz'ora di gioco i tifosi delle due squadre ricordano Pier Mario Morosini con un applauso scrosciante. In campo la squadra di casa si lascia preferire sul piano della manovra anche se al trentatresimo Gravion va a commettere fallo su Rocca. Maggioni indica il dischetto con l'azione che avviene però fuori aria e con Giannetti che mette a lato dagli 11 metri. Nel finale di tempo l'ex cagliaritano poi si infortuna e lascia il posto a Murilo. Punteggio che resta così sullo 0-0 fino al 46esimo quando i giocatori delle due squadre rientrano negli spogliatoi. La ripresa si apre con il vantaggio del Pescara al quarto minuto dopo un errore difensivo di Gennaro Terrenaria Balzano con Maggioni che decreta il rigore che trasforma Cocco per il meritato vantaggio biancazzurro. Esplode la gioia della nord del giocatore sardo che si sblocca in stagione già alla seconda partita. Fanno feste i ragazzi di Pilon per una rete importante anche se all'undicesimo è fazia chiamare Castrati ad una parata non semplice. Spinge la formazione di Cristiano Lucarelli che però subisce al sedicesimo il raddoppio dei locali. La rete del 2-0 arriva ancora sul rigore concesso per un fallo di Gonnelli su Melegoni. Tocca ancora Cocco dagli 11 metri con Mazzoni che tocca ma non trattiene. Il gol del 2-0 permette ai biancazzurri di poter respirare. Il rilassamento della squadra di casa costa però caro perché il neoentrato Diamanti inventa e Porcino al volo non sbaglia per il gol del 2-1 al 22esimo che riapre la partita. I biancazzurri accusano il colpo e traballano anche se al 28esimo il neoentrato Capone con una conclusione velenosa a sfiorare il 3-1. Ultimo quarto d'ora di gara incandescente con Capone ancora pericoloso al 32esimo con il pallone di un soffio alto dopo il tocco di Mazzoni. Nel Pescara entra Canute per Melegoni con il Livorno che però si rende ancora pericoloso con Cosa al 34esimo mettendo di testa al lato e poi al 34esimo colpendo in pieno la traversa con Castrati battuto. Con tre attaccanti e un trequartista spinge il Livorno alla disperata con Pillone che passa la difesa a tre con Perrotta al posto di Mancuso e con l'assedio finale degli ospiti e il salvataggio al 93esimo sulla linea di Campagnaro a conservare un successo tanto sofferto ma comunque meritato. Ora la sosta e due settimane di riposo prima di tornare in campo allo stadio Rigamonti con il Brescia. Giustificata al termine la soddisfazione dei giocatori e dei tifosi del Pescara come abbiamo visto dalle immagini e giustificata anche la soddisfazione del tecnico Pillone che ha riconosciuto ai nostri microfoni anche la sofferenza soprattutto nel finale. Ascoltiamolo. Possiamo dire che quella di questa sera è stata la vittoria della sofferenza perché la squadra nei momenti difficili della gara ha saputo soffrire e portare a casa un successo meritato ma anche allo stesso tempo sofferto. Sì molto sofferto soprattutto dopo il 2 a 0. Abbiamo sbagliato, ci siamo abbassati invece di continuare a pressare gli alti come abbiamo fatto in quei 70 minuti dove poi abbiamo fatto le due occasioni di due gol dove poi abbiamo creato anche da fare il 3 a 0. non l'abbiamo fatto e poi come spesso succede prendi il 2 a 1 e vai un po' in ansia anche perché è entrato Diamanti che è un giocatore che in questa categoria non c'entra nulla perché c'è un piede che mette la palla dove vuole e siamo andati un po' in difficoltà. Le scelte di Piloni sono state decisive, non lo dice sottoscritto ma lo dice la partita. Campagnaro in campo a sorpresa al 93 ha salvato un gol praticamente sulla linea. Cocco a cui lei ha deciso di dare fiducia ha segnato una doppietta. Melegoni è stato tra i migliori in campo così come Delgrosso. Sì le scelte si fanno in base a quello che si vede durante la settimana. Io cerco sempre durante la settimana di vedere bene al di là di chi gioca la domenica però se vedo meglio qualcuno durante la settimana lo faccio giocare. Perciò è uno sprono per tutti, tutti si devono conquistare il posto, tutti hanno la possibilità di conquistarsi il posto anche chi adesso è fuori che sta soffrendo avrà la sua grande possibilità di giocare. Possiamo chiedere qualcosa su Fiorillo che ha avuto un problema probabilmente poco prima della partita. No l'aveva avuto ieri nella rifinitura, aveva preso un colpo andato a terra e purtroppo non è riuscito a recuperare. L'abbiamo provato anche con le cure mediche, vedere se riusciva a giocare ci aveva troppo male. Perciò abbiamo dato fiducia a Castrati che ha fatto molto bene. Ha cambiato diversi giocatori rispetto alla gara di Cremona e questo un organico all'altezza per la Serie B? Io ho detto sempre che sono molto contenti dei giocatori che ho a disposizione. Giocheranno tutti, questo è poco ma sicuro. Chi prima, chi dopo, chi è più in condizioni in questo momento. Perciò è una gara fra di loro aperta, nel senso che quando facciamo gli allenamenti sanno che si conquistano il posto lavorando duro. Perciò questo è molto importante per tutti e credo che sia questo che ci farà fare il salto di qualità. In questo 3-3 potrebbe cambiare in futuro, in un futuro prossimo, il ruolo di Brugman? Brugman può giocare davanti alla difesa, può giocare a Mezzala. Brugman è un giocatore universale, può giocare dove vuole. Queste le dichiarazioni di Pillon al 91esimo nella Mix Zone dello Stadio Adriatico. Cocco, felice per i gol, ma guai a esaltarci. Parliamo ancora del Pescara con le dichiarazioni del doppio autore delle due reti che hanno permesso al Pescara di battere il Livorno. E poi castrati ed il debutto da sogno. Che emozione queste le dichiarazioni del portiere che come abbiamo anche ascoltato da Pillon ha preso il posto di Fiorillo infortunato. Siamo alla Serie C, il Teramo vince facile l'amichevole con il notaresco San Nicolò. Zichella sperimenta la squadra 4-1 il risultato finale per la formazione bianco-rossa. Ma quella di ieri è stata anche la giornata della Coppa Italia con due gare che hanno riguardato le nostre formazioni. Netto il successo della Vastese con l'Avezzano 3-0 il risultato finale per la formazione di Palladini. Soddisfatto al 91esimo il trainer aragonese. Migliorare in brillantezza. Giampaolo secondo tempo inspiegabile. Adesso prepariamoci al campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico marsicano. E poi l'altra partita tra Francavilla e Giulianova Real ai rigori e Corsaro a Francavilla. Noi partiamo proprio dalla gara del Valleanzuca dove ci sono venuti i propri calci di rigore. In questa sfida tutta giallorossa per decretare la formazione che è approdata al secondo turno di Coppa Italia. appunto il Giulianova di Mister Stallone. Possiamo andare a vedere il servizio realizzato da Roberta Di Sante. Ci vuole la lotteria dei calci di rigore per sancire il passaggio al secondo turno di Coppa Italia del Giulianova che al Valleanzuca riesce ad avere la meglio in un derby tutto giallorosso sul Francavilla per 5-7 ribaltando il risultato del primo tempo con una vehemente reazione nella ripresa. Penalti decisivo di Palladini che approfitta dell'errore dal dischetto di Paravati per regalare la gioia ai giugliesi reduci dalla vittoria nel turno preliminare contro il San Nicolò Notaresco. Primo impegno ufficiale per il Francavilla di Paolo Rachini autore di un ottimo primo tempo vanificato da una sterile ripresa. I giallorossi del presidente Candeloro approcciano bene la gara e al tredicesimo stiorano il vantaggio. Grande spunto di decostanzo sulla fascia che va a guadagnarsi un buon calcio d'angolo sugli sviluppi del corner serie di batti e ribatti poi milizia, calcio a volo, provvidenziale, la deviazione di Ferrante. A passare per primi in vantaggio però sono gli ospiti che alla prima vera occasione passano quando Di Paolo è lesto a ribadire in rete da due passi la respinta corta di Spataro sul colpo di testa ravvicinato di Tozzi Borsoi. Neanche il tempo di esultare però che il Francavilla pareggia immediatamente i conti ancora un propositivo decostanzo centra il palo alla sinistra di Sciba sulla respinta Banegas non perdona in entrambe le occasioni dei gol proteste dall'una e dall'altra parte per le posizioni dei due marcatori ma in entrambe le occasioni il direttore di gara non ha dubbi nel convalidare le reti. Dopo il gol del pareggio il Francavilla insiste nel tentativo di fare la gara al 36esimo De Costanzo fa partire un pericoloso traversone provvidenziale l'intervento di Fuschi a prolungare in fallo laterale. Sugli sviluppi dell'azione Banegas fa partire il diagonale Sciba si allunga deviando la sfera con la punta delle dita il pallone resta lì tra il palo e la linea di porta per il direttore di gara Matera la palla è entrata i padroni di casa tra le vehementi proteste giuliesi ribaltano il risultato nell'occasione viene allontanato dalla panchina per proteste mister Nico Stallone sostituito al timone dal vice Giulio e Torre in campo vengono ammoniti Di Paolo e Tozzi Borsoi che rischia grosso al quarantesimo per questo fallo su Mele tutt'altra partita nella ripresa che si apre con una punizione di Delgrosso respinta da Spataro il Giulianova prende campo mentre il Francavilla sembra essere rimasto con la testa negli spogliatoi al ventottesimo Fabrizi mette un ottimo cross per Fuschi che di testa spedisce incredibilmente fuori bersaglio i giuliesi insistono e al trentaquattresimo e Tozzi Borsoi a sfiorare il pari ma con un bel colpo di reni l'estremo francavillese dice ancora una volta no però adesso c'è una sola squadra in campo al quarantesimo i giuliesi non approfittano dello sbaglione della difesa locale spedendo ancora una volta al lato il meritato pareggio ospite si concretizza al quarantatreesimo Barlafante conquista un buon calcio di punizione che Frulla inzacca alle spalle di un immobile Spataro per il 2 a 2 si va ai calci di rigore infilano di seguito Tozzi Borsoi che apre le danze Frulla, Fuschi e Barlafante per il Giulianova Mele, Bedin e Cicerello per il Villa decisiva la parata di Sciba su Paravati e il conseguente centro di Palladini che fissa il risultato sul 5 a 7 regalando la gioia della vittoria al Giulianova ora in attesa di conoscere tra martedì e mercoledì quando usciranno gli accoppiamenti quale sarà la prossima avversaria diciamo che il campo di Francavilla non mi porta bene ne avevo preso tre giornate lo scorso anno e quest'anno si è ripetuta l'espulsione purtroppo ripetuta sempre per colpa di un guardialine che secondo me ha caratterizzato il risultato del primo tempo e stava caratterizzando la situazione fino alla fine poi il primo gol loro era in fuorigioco il secondo la palla non è entrata stava nettamente sopra la linea c'era un rigore su Di Paolo quindi un pochettino gli errori arbitrali avevano condizionato il gioco e secondo me la squadra era una bella partita di entrambe le squadre stava giocando bene in Francavilla, stavamo giocando noi bella partita di categoria, bella tra due squadre che stavano bene in campo il secondo tempo però devo dire che è uscito fuori un bel Giulianova noi abbiamo fatto una preparazione pesante la settimana scorsa eravamo ancora un po' in difficoltà fisica oggi siamo venuti fuori meglio i cambi effettuati nel secondo tempo hanno dato i loro benefici i ragazzi sono entrati bene in campo nel secondo tempo abbiamo avuto tre palle gol nitide quella con Fufchi, quella con Tozzi-Borsoi e quella con Pirabella alla fine la lotteria dei rigori che voglio dire chiaramente lascia il tempo che trova però credo che per quello che abbiamo dimostrato nell'arco della partita di cui in particolare il secondo tempo abbiamo meritato oggi di vincere contro il Francavilla che ritengo sia una delle squadre sempre più forti e candidate almeno all'otto dei play-off quindi è un risultato che vale doppio un buon primo tempo da parte del Francavilla poi che cosa è successo nella ripresa? che cosa non è andato? non è andato diciamo che forse siamo calati un po' mentalmente e fisicamente di conseguenza ne viene fuori che non riesce a fare quello che si è riuscito a fare nel primo tempo perché comunque penso che nei primi 45 minuti la mia squadra abbia espresso un ottimo calcio abbiamo sofferto su qualche situazione di palla inattiva ma lo sapevamo nel secondo tempo invece abbiamo fatto fatica sia a costruire sia a difendere quindi dobbiamo ripartire comunque dagli errori fatti lavorare durante la settimana mancano ancora due settimane per l'inizio del campionato quindi ci faremo trovare pronti sicuramente penso che nel primo tempo la mia squadra ha fatto quello che deve fare però le partite durano 90 minuti quindi dobbiamo analizzare le cose che abbiamo sbagliato in settimana questo è il servizio di Roberta Di Sante su questa sfida del Vallanzuca tra Francavilla e Real Giulianova va avanti in Coppa e Real Giulianova vedete il titolo dal quotidiano del centro Giulianova fa il colpaccio Francavilla a cappo ai rigori padroni di casa eliminati dopo l'errore decisivo di Paravati dal dischetto i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2 con i giuliesi in rimonta abbiamo ascoltato anche le impressioni del 91esimo Rachini calati nel secondo tempo Stallone recrimina li abbiamo ascoltati al microfono di Roberta Di Sante vediamo in basso anche quello che accade in casa delle altre formazioni di Serie D partiamo dal notaresco forse ci sarà un test con la San Benedettese la società sta organizzando un'altra amichevole per sabato vi ricordo che il campionato partirà tra due settimane per i noti motivi sono stati resi noti scusate il gioco di parole proprio di recente i gironi e a tal proposito proprio sui gironi c'è la dichiarazione del direttore sportivo del Pineto Roberto Giammarino che dice girone con le romagnole bene così sarebbe stato peggio per Giammarino affrontare il Bari nel girone delle sei abruzzesi c'è però il Cesena vediamo invece l'altra gara come detto di Coppa Italia di Serie D con questo netto 3 a 0 della Vastese con l'Avezzano le reti di D'Alessandro, Napolano e De Meo meglio i marsicani a inizio gara ma senza graffiare negli ultimi 16 metri ma noi abbiamo letto i titoli su questa partita ora andiamo a vedere le immagini il servizio su questa sfida giocato allo Stadio Aragona di fronte ad un buon pubblico con buona rappresentanza di tifosi marsicani il servizio realizzato da Jacopo Forcella Vastese conquista i 32esimi di Coppa Italia in 12 minuti tanti infatti ne bastano alla squadra aragonese per imporre la legge dello stadio di casa ad un Avezzano che gioca un discreto primo tempo ma in apio di secondo si scioglie e cade fragorosamente in uno dei due derby abruzzesi di giornata Paladini lascia in panchina Stivaletta e Leonetti c'è Capitan Fiore a dare fantasia a largo a destra al gioco aragonese con Sciba terminale offensivo e Napolano sullo fronte opposto non c'è Palestini fermato nella notte da un virus intestinale sostituito da Pagliari Giampaolo deve rinunciare invece a Cerone che sconta la giornata di squalifica in Coppa che si trascinava dalla scorsa stagione riproponendo il 3-4-3 intravisto già in precampionato con Di Felice a guidare la retroguardia insieme a Mennes Bardella Dos Santos al centro dell'attacco con Pellecchia e Deramo Lavastese prova in avvio a fare la partita ma l'Avezzano nelle ripartenze può essere pericoloso l'occasione limpida ce l'hanno proprio gli ospiti al diciottesimo con Pellecchia Deramo Lopesca in buona posizione ma l'esterno calce altissimo di sinistro e manca il bersaglio grosso la risposta di Pagliari al ventiquattresimo dalla parte opposta invece è velleitaria altra conclusione poco pericolosa al minuto 27 quella che prova a Bisegna col sinistro dalla distanza Morelli blocca senza patemi Lavastese si rivede al quarantesimo la palla di Ridolfi è illuminante ma la punta perde il momento della battuta mancina e Dinjan Felice è lesto a chiudere sventando una buona occasione il tutto in una prima frazione condizionata dal sole che splende sulla ragona e che rallenta inevitabilmente i ritmi di gioco riprese invece di tutt'altro tenore perché passo un minuto e Lavastese sblocca il risultato azione insistita sulla sinistra ed è da Alessandro che scarica in fondo al sacco il pallone del vantaggio di casa Lavezzano prova a rispondere al terzo con la discesa di Besana disinnescato dai piedi di Morelli ma al 53esimo Lavastese mette in ghiaccio il match e lo fa con Napolano che gira di testa alle spalle di Fante un traversone perfetto di Ridolfi esplode di nuovo la gioia dell'Aragona per la prima rete con la nuova maglia dell'ex San Benedettese Giampaolo corre ai ripari toglie Bianciardi e Besana per Alessandro e Puglielli e per provare a rispondere ad un 1-2 mortifero ma Lavastese incontenibile al 57esimo chiude il match il traversone da destra non trova la testa di Sciba ma la correzione in bello stile di De Meio il pallone rimbalza a terra e batte ancora Fanti tre gol in 12 minuti e qualificazione in tasca per gli uomini di Palladini Avezzano tramortito con Schirone che prende il posto di Gianfelice mentre Palladini toglie Napolano per Giampaolo Biancoverdi che smaltito il triplo schiaffo tornano a farsi vedere al 64esimo Bisegna invita Alessandro al tappin volante che termina a lato non di molto ancora Bisegna ci prova al minuto 72 con la sventola mancina che termina non molto distante dalla porta di Morelli altra buona occasione all'82esimo Alessandro sempre lui sulla sinistra rifinisce per Pellecchia che elude la marcatura di Ispas ma calcia alto da buona posizione Lavastese però quando accelera fa male come l'85esimo con Schiba che in spaccata centra la base esterna del palo a Fanti battuto con Giampaolo murato al momento di siglare il poker bianco-rosso Aragonesi dilaganti ancora con Giampaolo minuto 86 sfugge a Schirone ma chiude troppo l'angolo della conclusione penultimo sussulto del match lo regala proprio Schirone nel recupero al 91esimo col destro a giro che sfiora l'incrocio mentre al 94esimo il costo costo di Stivaletta trova la risposta pronta di Fanti con i piedi al turno successivo dunque che fa su il derby per 3-0 indicazioni importanti per Ottavio Palladini considerando che l'Aragona si è vista una squadra che ha ancora parecchi margini di miglioramento campanello d'allarme invece per l'Avezzano la coppa non era l'obiettivo stagionale vero la specie la ripresa lascia Federico Giampaolo con qualche preoccupazione e tanto su cui ancora lavorare siamo quasi in chiusura ma parliamo ancora di calcio per qualche istante perché ieri si è giocata la prima giornata del campionato regionale di eccellenza Chieti messaggio al campionato Nero Verdi che battono 5-0 in Martinsicuro vediamo gli altri risultati Acqua e Sapone Miglianico 1-1 Il Delfino Pescara Capistrello 2-0 Torrese Amiternina 4-1 e poi ancora San Buceto Renato Curiangolana 1-0 Paterno Nero Stellati 1-1 Spoltore Penne 1-1 Alba Adriatica Cupello 0-2 Nereto Ponte Vomano 0-0 Coppa Italia ritorno del primo turno per la promozione vediamo i risultati con il Lanciano che pareggia per 2-2 con l'Ortona ma avanza in virtù del risultato dell'andata Castelnuovo ripete il poker con il Tossicia 4-0 per la formazione ospite in campo in casa del Tossicia e poi Pucetta Angizia Luco 0-6 Angizia di qualità 6 gol al Pucetta Piazzano Casalbordino 0-1 passa il Casalbordino Bucchianico fuori 2-2 col Fossacesia Montorio passa nella ripresa sul campo del piano della lente per 2-0 Borgo Santa Maria Fate Rangelini 3-0 passa il Borgo Santa Maria Fontanelle Mutignano 3-1 e poi Santomero Panmense Nuova Sant'Egidiese 1-3 vediamo anche il Girone Birri il secondo Girone dunque sempre il ritorno della Coppa Italia Vasto Marina San Salvo 1-1 la sfida va al San Salvo la sfida di andata e ritorno Sant'Anna Villa 2015 1-2 passa la squadra ospite Spotland Celano Vidana Sulmona 1-2 River Chieti Passo Cordone 1-1 Scafara Iano 2-3 Mosciano Real Atria 0-3 Casolana Valdisangro 4-3 eliminata la Valdisangro Morrodoro Rosetana 2-0 e torna in parte San Gregorio 1-2 l'Aquila aspetta la FIGC ma sarà prima categoria questo è il titolo che riguarda il rosso-blu la piazza cerca il rilancio ma difficilmente si riuscirà ad andare oltre la prima categoria ne sapremo qualcosa in più nei prossimi giorni il campionato partirà il 16 settembre il podismo trionfo del 41enne Bucci al 29esimo Trofeo Libertas di Guastameroli la maratonina Alba Running di Alba Adriatica che si è disputata ieri mattina ad Alba con 600 iscritti è stata vinta dall'Etiope ma naturalizzato italiano Benjamin Adugna e noi siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 il primo appuntamento della settimana Mattino 6 che tornerà domani come sempre alle 8 io ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito vi rinnovo l'appuntamento alle 14 con la prima edizione del TG6 ma vi ricordo anche l'appuntamento del lunedì questa sera in diretta dai nostri studi alle 21 replay con Enrico Rocchi per parlare del Pescara alla luce della vittoria di ieri con il Livorno grazie e buon proseguimento di giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti